Nella puntata precedente Ho già perso la strada di casa Entriamo nella caverna più oscura del mondo Nice, Flady No, no, adesso a me In questo episodio Un diamante per noi Due diamanti Uuuuh, vabbè Aspetta, sotto c'è della lava, no Perfetto Tre diamanti Quattro Cinque Sei Sei Yes Sei diamanti E lì ce n'è un altro Rischiosissimo Ma è pur sempre un diamante E che fai? Non lo prendi E' certo che lo prendi Però con tutte le precauzioni del mondo Cioè proprio tutte Perché se mi dovesse arrivare uno zombie da dietro Anzi facciamo così va Così non ci arrivano da dietro Dicevo, se non usassi tutte le precauzioni del mondo Io mi conosco e sono sicuro che andrei alla Carlo Vedete? Vedete che ho già rischiato Oh mio Dio, ho stra paura Ho stra paura Metti sotto tutto Quanto è quotato che ora esce Master tried to swim in lava Cioè Io ci scommetterei Poi fate voi Quindi spacca qui Spacca qui E oh mio Dio Stavo cadendo ancora Quanta paura Cioè perché Devo cadere Devo rischiare Prendi Perfetto Altri diamanti Cioè Is this jackpot? Ah Ah Non è successo niente Non è successo niente Niente è successo Assolutamente Niente Copri va E non torniamoci mai più Perfetto E qua Vabbè rompiamo E' stato un buon riparo Ok Perfe Chiudi assolutamente Tutto Cosa ti fa pensare Di voler lasciare aperto Una buca del genere Cosa te lo fa pensare Facciamo doppio strato va Perché poi Sono stupido E dico Ah si scaviamo qua sotto E muoio E muoio come un animale Quindi dammi tutta la pietra E chiudi tutto Quadruplo strato Ok Allora qua abbiamo cotto Abbastanza Quindi direi rompiamo E idem qua rompiamo Che per il momento Non ci serve Diamanti Ne abbiamo Dieci Dieci Diamonds Yes Ma non è finita Perché voglio esplorare ancora Cioè questa puntata Proprio siamo partiti Con le peggio intenzioni Di trovare i diamanti E abbiamo trovato Sia diamanti Che smeraldi Che delirio E sapete qual è il mio piano Sapete cosa voglio fare Mi faccio Vediamo vediamo Dove la crafting Perfetto Un bel Oltre ovviamente Al piccozzo Che vabbè il mio sta morendo Quindi per sicurezza Un bel secchiello Sì Perché ora Quasi quasi Iniziamo già a prenderci L'ossidiana Già qui ce n'è un po' È ossidiana questa Sì esatto Già qui ce n'è un po' Ok è diventato Improvvisamente tutto buio Perfetto Facciamo tornare normal Tra l'altro sento anche degli slime Che mi servirebbero Nella minecraft vanilla Per fare vari progetti Ma al momento Non ce li ho E quanto è rischioso Da uno a troppo Prendere qua Della Della roba Stiamo così va E appunto mi prendo Dell'ossidiana Oddio in realtà Dovrei usare il piccone Di diamante Però vabbè Ormai abbiamo iniziato Con questo Perché appunto Devo farmi il portale Quindi quasi quasi Mi crafto già da subito Il piccone di diamond E mi prendo Dell'ossidiana Quasi quasi Allora piccone per noi Ovviamente quello di ferro Non serviva assolutamente a niente Perché serve quello d'ossidiana Stupido mass E quindi io direi Di iniziare a prenderne Oddio quanta ne serve Per il portale Non mi ricordo mai nella vita Boh Uh redstone Uh lava Stavo per fare una cazzata Stavo per fare una mega cazzata Ma perché io devo morire di paura Ogni volta che facciamo qualcosa con la lava Cioè perché Raccolgo l'ossidiana Per farmi il portale Proseguire nella serie Abbiamo perso un pezzo Non so quanti ne servono Quindi nel dubbio ne prendo Boh Dieci Possono bastare dieci Sono abbastanza dieci Non lo sapremo mai So solo che voglio trovare altri diamanti Perché per ora ne abbiamo dieci Tre ovviamente li ho appena usati per il piccone Ne abbiamo sette Not bad Però più ne abbiamo meglio è Quindi volendo Potrei anche evitare di tornare a casa in questo episodio Potremmo rimanercene qua in miniera E tornare a casa in un prossimo episodio Così portiamo giù le cose Prendiamoci questo ultimo pezzo di ossidiana Vediamo quanti ne ho Undici Ok anche uno in più del prevaisto E riprendiamoci pure questo Perfetto Cioè io direi perfetto Ora il piccore me lo metto un attimo via Perché non serve E esploriamo di qua Decisamente Cioè dai Io lo so che ci sono degli altri diamanti Cioè proprio ne ho la certezza Però Uh ferro Cioè oro Dicevo ne ho la certezza Però Fa stra paura ad esplorare Cos'è quel Oh diamanti Yes Cioè Che delirio Che delirio Che delirio Allora Oh altri diamanti Ma what the fuck Allora prima l'oro Metti che ci cade la lava dall'atena Ok Perché se ci cadeva la lava in testa proprio Allora Oro per noi Qua sotto c'è della lava Spero che non sia esatto proprio qui sotto Anzi mi sa che è proprio qui sotto Infatti Scendi va Ok E ti prego non cadere Ok Cioè quanti diamanti stiamo trovando Ti prego non morire Ok Che delirio Che belli questi episodi Voglio stare per sempre in miniera Voglio starci per sempre Quindi altra water Per noi Non so perché oggi sto parlando Mezzo inglese Mezzo italiano Questo lo chiudiamo per sicuro Oddio Ah quanto buio Quanto buio Eh se Oh guardate quanti No qua cade tutto Allora spacca e scappa Ah no non era l'argilla Ah perfetto Cioè guardate quanti Ma cosa sta succedendo Ah E mi prenderei pure questo oro Ovviamente chiuderei quest'acqua Che mi dà un fastidio totale Però l'oro ce lo prendiamo Cioè il livello 12 Vabbè ovviamente lo sapevate già Ma è il livello dei diamanti Per chi non lo sapesse Fa sempre bene dirlo Qua non ce ne sono più Però chiuderei il tutto Anzi facciamo così va Chiudiamo da qua Così ce lo dimentichiamo quel pezzo Redstone Not bad at all Anche se non so cosa possa servirmi Però non fa mai schifo E ce ne andiamo davanti Ora ci stiamo perdendo assolutamente Perché non so più come tornare a casa Però spero di trovare un modo Qua c'è dell'altra lava Che sinceramente Toglierei Perfetto Ridammi l'acqua Thank you Cioè quanti diamanti abbiamo 15 Più 3 18 diamanti Ok Ok Cioè credo sia stata una cosa Decisamente Prolifica Di là non ci voglio andare In realtà non vorrei andare neanche di qui Però purtroppo Per fortuna Ci dobbiamo passare per forza E direi che volendo in realtà Può anche bastare così Cioè i nostri diamantini Ce li siamo trovati Scavando totalmente a caso Per ora può bastare Sì Cioè è stata una caverna Decisamente prolifica Però io qua sento gli slime Cioè volevo esplorare un attimo Perché li sento qua da qualche Oh Oh ma sei pazzo Ma questo è scemo Ma questo è scemo Dov'è la mia pala Eh sono là sopra Sì Vabbè dai non complichiamoci la vita E torniamocene a casa Anche se in realtà Non so come fare Quindi appunto Come ho detto prima Volendo potremmo Chiudere in miniera L'episodio E la prossima volta Ce ne torniamo a casa Però io voglio esplorare No dai Non rischiamo Anzi appunto Appunto per la legge del non rischiamo Esatto Mettiamo altra acqua E ok Cioè oh mio dio Un altro smeraldo Ok perfetto Basta concludiamo così la puntata C'è due smeraldi E 18 diamanti Davvero Masser Quando ti è mai capitato Una cosa del genere Mai Però sopra sento della lava Quindi Facciamo che me ne salirò Da un'altra zona Tipo di qua Quindi signori In miniera Salvo ed esco Mi tolgo le cuffie Come alla fine di ogni episodio Oh mio dio È stato un bellissimo episodio Abbiamo trovato smeraldi Diamanti Ossidiana Che vabbè Si trova facilmente Ma ossidiana Che delirio Io vi invito a lasciare un mi piace Un commento Condividere il video Mi fa male pure la schiena Vi ringrazio per la visione Vi do appuntamento domani Alla solita ora Vero 2.45 Con un nuovo video Ciao Che delirio Che delirio Ciao